Una prima cosa, una premessa che non siamo abituati a questo genere di situazioni, normalmente non abbiamo tutte le volte convocato conferenze stampa, anche se in questo lasso di tempo, dall'anno scorso, dalla resistenza sugli scogli dei migranti a oggi sono successe tantissime cose. In questa occasione, visto ciò che sta accadendo, vista la fortissima repressione sui migranti e sui solidali che cercano di sostenere il movimento di queste persone, abbiamo ritenuto di convocare questo momento. Lascio un attimo la parola al mio compagno che introduce un attimino i contenuti di questa conferenza stampa, parleremo tutti e tre, dateci un po' di tempo, poi tanto deciderete voi cosa trasmettere o meno e poi comunque rimaniamo anche aperti a eventuali domande con molto ordine e che domande siano sensate, altrimenti non risponderemo.